Qual è la sua riflessione per quanto accaduto? Nessuna riflessione, nessun proprio entefalogramma piatto. Ma è preoccupato? No, non sono preoccupato, lo sono da molto tempo, ma non c'è nessuna delusione, molta serenità, si torna a casa. Ma oltre al napolitano fai gli auguri anche altri di che forse ne avrebbe bisogno. Professore di qua per favore! Si è sentito tradito? Ma poteva aspettarselo presidente? Allora, c'è il professore e la gente in piazza. E' stato un po' di vergogna. Io vi ringrazio dell'affetto, vi saluto e dopo 16 ore di viaggio mi sembra di poter andare a casa. Grazie. 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 Grazie.